Per il venuto dei play-off, voi dovete vivere per stare qua. Uno, due, tre, tre! La SIS Roma va a Catania alle FANASIX per? Per far vedere chi siamo. Fare il meglio possibile, non voglio dire nient'altro. Vincere. SIS Roma, Carolina Bianca. Numero uno, Fabiana Maravano. Due, Giuliana Caravani. Tre, Giulia Pitaranardi. Troppo, Giuliano Tori. Cito, Giulia Motta. Sei, Eccaterina Ancheza. Sve, Capitano, Dovo, Giulia, Dicotso. Otto, Giada, Sinti Cane. Nowe, Trze, Giulia, Martini. Dieci, Luna, Dicela Audio. Ludici, Isabella Caravani. Non si dice questa caravanzia. Intanto siamo in semifinale. Questa squadra può arrivare dove vuole. Se vuole vincere Scudete, deve arrivare là. Non si dice questa caravanzia. Musica Musica Non si dice delle scuhe cose che c'è. Sì! Grazie a tutti.